Ciao a tutti sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi Ornella Mutti è il dramma sconvolgente che ha lasciato senza parole l'attrice, ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda Una delle attrici che ha stregato con la sua bellezza disarmante, i suoi occhi color ghiaccio e il suo talento smisurato all'interno del mondo dello spettacolo è proprio lei, Ornella Mutti Nel corso della sua carriera, la donna ha partecipato a diversi film di successo che le hanno permesso di ottenere diversi premi e riconoscimenti tra cui una targa d'oro ai David Di Donatello, Chuck d'oro speciale, 2018, tre globi d'oro, e due nastri d'argento come miglior attrice protagonista Purtroppo, l'attrice ha dovuto affrontare un momento davvero drammatico, ecco come mai L'esordio di Ornella Mutti all'interno del mondo cinematografico e dello spettacolo è avvenuto quando all'età di 14 anni fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella, ispirato alla vicenda di Franca Viola Punto il vero esordio, è avvenuto nel 1974 quando incontrò Mario Monicelli e partecipò al film romanzo popolare con Ugo Tognazzi nei panni dell'operaio milanese Basletti Visto il suo talento e la sua professionalità dovuta a questo film, Ornella Mutti fu scelta per interpretare diversi personaggi anche in altre pellicole rivelatesi successivamente di successo come Flash Gordon, storia di ordinaria follia, il bisbetico domato, innamorato pazzo e l'amante bilingue Punto nonostante il successo ottenuto nel corso della sua brillante carriera e i tanti premi e riconoscimenti, Ornella Mutti ha vissuto un momento davvero drammatico della sua vita che ha lasciato proprio tutti senza parole, ecco di cosa si tratta Ornella Mutti, il dramma sconvolgente vissuto.La bellissima Ornella Mutti, nonostante la sua professionalità e il suo talento, ha vissuto un momento davvero molto drammatico e sofferente dovuto alla scomparsa di suo genero Andrea Longhi La morte del giovane Andrea, sia la figlia Carolina che Ornella, l'hanno definita un dolore davvero straziante Il giovane Andrea era legato all'attrice Carolina Fauchinetti. Purtroppo, il giovane stava combattendo contro una malattia terribile Sul web, sotto il post emozionante scritto da Carolina figlia di Ornella, ti amo tutto il resto è superfluo Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre Sono tanti anche i messaggi di Cordoglio.Il dolore è davvero grande sia per Ornella che per sua figlia Carolina, infatti, ha scritto parole molto dolci e toccanti, sei il mio guerriero, punto punto punto, guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu Che mi ha insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera Anzi più forti sono tra noi. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video